Si ripresenta unita e compatta la squadra uscente che ha affiancato sino a oggi il sindaco di Tezze sul Brenta Luigi Pellanda che decide di ricandidarsi a primo cittadino per il prossimo quinquennio andando così a completare e sviluppare i tanti progetti già avviati in questo primo mandato in via di conclusione accanto al gruppo storico anche i volti nuovi, consapevolezza, credibilità, coesione e competenza le parole chiave della campagna elettorale Il filo conduttore è concretezza, noi abbiamo cercato di interpretare quelle che sono le esigenze della nostra comunità e limitatamente alle disponibilità di bilancio di dare le risposte, risposte concrete tenendo conto appunto delle risorse finanziarie sappiamo con certezza che nel prossimo quinquennio ci sono tre azioni di carattere generale cioè la denatalità, l'aumento della popolazione anziana e le condizioni climatiche che sicuramente incideranno molto anche nelle nostre scelte locali E col fatto di avere tanti volti nuovi giovani è proprio una conferma della voglia anche di portare avanti le istanze della popolazione più giovane Assolutamente sì, non solo, anche perché devono crescere perché domani insomma dovrà esserci assolutamente il ricambio perché i giovani come spesso io dico sono la nostra risorsa, il nostro futuro è un paio che ci saranno i amici la ragazzi di ac echtazione che è una produzione eccetera E poi ci saranno gli atteggiamenti aspetto a tomate di un silverback Sfittare Eolo Sfittare Sfittare